Padova e provincia. 12 patenti sono state ritirate nell'ambito dei controlli della polizia stradale a Padova la scorsa notte. Gli agenti hanno controllato complessivamente 147 conducenti di cui 12, 9 uomini e 3 donne sono risultati positivi all'alcol test, uno di loro anche per droga. I controlli sono avvenuti nella zona di Padova Est. È stato trovato positivo con tasso alcolemico di 1,49 anche un infermiere. Nell'ambito dei controlli della stradale da segnalare anche violazioni per il mancato uso della cintura di sicurezza e del seggiolino per i bambini. Ma le violazioni più consistenti continuano ad essere quelle per l'utilizzo dei cellulari a bordo con una sanzione che prevede la decurtazione di 5 punti sulla patente.